WOOOOOO La raccolocante la batteria E' bravo! Bravo Rocco! Si è loop ragazzi questo è... C'è la deep station sotto E' la loop? Si, di di sotto Eh si? E' la di sotto raga Da 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 Ha Ah Grazie a tutti. Ha registrato la chitarra e il loop per non registrare, ragazzi. Cos'è sto suono, ragazzi? 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 Grazie a tutti. 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 Dopo questo bellissimo video girato con The Mr. NG Star oggi. Da oggi in poi The Mr. The Mr. NG Star. Grazie a tutti. No? Per vedere dove andrò ragazzi magari andrò in una park ma non con The Mr. No ragazzi. No ragazzi.